Cari cittadini, buongiorno. Oggi vorrei parlarvi per l'ultima volta del centro di raccolta differenziata o di scarica che dir si voglia. Voglio assicurarvi che nella nostra lista non abbiamo nessuna intenzione di andare ad edificare un nuovo centro di raccolta qui in Eruno, nell'area Ex Petrol Dragon, a poche centinaia di metri da quello esistente di Brivio, per vari motivi che vi abbiamo già spiegato. Oltretutto Brivio ha ottenuto un finanziamento pubblico di circa 270.000 euro per ammodernarlo e renderlo ancora più funzionale. Quindi noi non andremo a buttare via altri soldi pubblici per ricostruirne uno ad una distanza così breve e minima da quello già esistente. Sarebbero comunque soldi pubblici comunali, regionali o quello che volete buttati via. Quello che andremo a fare sarà due cose. La prima, ridiscutere con Brivio un canone di affitto di questo servizio in maniera amichevole, nella nostra ottica che con i comuni vicini bisogna collaborare e trovare delle soluzioni convenienti per entrambi. La seconda cosa sarà quella di istituire una raccolta durante il periodo estivo di quello che sono il prodotto di sfalci, di potature, in un'area specifica del nostro paese. Quindi niente, votando noi non avrete un'altra discarica in paese, ma avrete un servizio ancora migliorato con Brivio ed una raccolta in più durante il periodo estivo degli sfalci e del verde. Questo è tutto per oggi. Grazie alla prossima.